Ciao a tutti, ho il piacere di ospitare nel nostro salottino Aram presso il Circolo Ippico Le Arene, Antonia De Laurenti, sei una consigliera dell'Associazione Renning della Puglia e in questa occasione è anche un'organizzatrice del Golden Circle. Ciao Antonia, qual è stato il tuo ruolo nell'organizzazione del Golden Circle? Ciao, grazie per questa intervista. Il mio ruolo all'interno di questa organizzazione è stato definito sin dall'inizio dal gruppo quello di coordinare un po' il lavoro all'interno della regione Puglia. Chiaramente è un lavoro che ho fatto sempre in accordo e condividendo tutto con il vicepresidente Nicola Losurdo e Antonio Musarol, vicepresidente, tutto il consiglio che si è subito manifestato entusiasta di questo progetto che abbiamo comunque portato avanti durante tutta la stagione anche all'interno della regione. È stato un progetto accolto subito molto bene da tutti gli associati. Una figura femminile in un mondo a prevalenza maschile, in realtà è conduzione-organizzazione. È un comitato organizzativo che abitualmente lavora per la propria regione e si è trovato invece per seguire degli obiettivi a lavorare in sinergia con altre regioni, quindi con altri gruppi di lavoro e con persone con le quali magari non eravate neanche abituati a condividere determinati obiettivi e a collaborare. Ci sono state delle difficoltà, magari degli ostacoli da superare? Avete raggiunto gli obiettivi che eravate prefissati? Ma allora, le persone con cui abbiamo condiviso questo progetto dall'inizio sono appassionati, che hanno lavorato molto seriamente e anche duramente, devo dire che questo si vede anche dal risultato ottenuto, perché siamo in un posto che io per prima, ma tutti quanti, abbiamo trovato super organizzato come sempre e comunque frutto del lavoro di tutti quanti. Quindi, principalmente, devo dire, visto che sono padroni di casa, sicuramente il presidente dell'Aram con Davide D'Ercole, che ci stanno ospitando egregiamente. Chiaro è che è un lavoro che abbiamo condiviso per tanti mesi, nel quale abbiamo anche avuto delle difficoltà, a volte anche caratteriali, e probabilmente io da femminuccia tra le prime, però abbiamo lavorato bene, sono tutte persone molto serie quando condividono un progetto. Invece, le tue motivazioni o le motivazioni, insomma, del tuo comitato, del tuo gruppo a voler perseguire un progetto così ambizioso come può essere quello di portare il Golden Circle, quindi un evento di rilevanza, in un'area geografica che è quella del centro-sud? Forse nasce principalmente dall'esigenza di poter far gareggiare tanti ragazzi, tanti appassionati che a volte fanno veramente fatica a fare tantissimi chilometri e soprattutto di dare anche una visibilità a tutto il centro-sud che è ormai piena di appassionati, cavalieri, allevatori e anche posti che meritano anche di essere frequentati da tutti questi binomi che comunque si spostano con piacere, però a volte diventa veramente tanta strada da fare. Quindi obiettivi possiamo dire raggiunti, ci saranno obiettivi per il futuro, il Golden Circle, per appunto gli eventi che verranno, ci saranno delle evoluzioni, degli obiettivi ancora più alti da raggiungere, ci anticipi qualcosa? Ma io penso al momento sicuramente gli obiettivi sono stati sicuramente raggiunti perché oltre ad un ottimo livello di cavalieri che vedo, sono tutti entusiasti sicuramente di partecipare a questo evento ed è una cosa bellissima per il centro-sud. Per il futuro sicuramente si potrà fare meglio, come tutto nella vita, è tutto migliorabile e adesso io sono molto contenta della gara che avremo a settembre dalla signora Fiorucci da Elementa in concomitanza con il Maturity, quindi anche in accordo con l'IRA che chiaramente porta un evento molto importante a Roma ed è una cosa bellissima per tutti noi. Quindi possiamo dire uno sforzo condiviso per un obiettivo comune che ha coinvolto tutte le risorse organizzative del centro-sud. Pensi che questa organizzazione porterà dei cambiamenti per il futuro oltre a quello del Golden Circle, anche proprio quello del panorama del running italiano? Sicuramente prestando anche molta attenzione a principi come il benessere del cavallo, come del cavaliere, che è già una strada sicuramente intrapresa a livello nazionale perché tanti miglioramenti sono visibili anche ormai agli special event, ma sicuramente si potrà fare molto meglio anche. Grazie Antonia, è stato un piacere avere anche il tuo contributo. Grazie a voi.